La Juve è tra le stelle d'Europa. Facciamola diventare la regina con il nostro tifo. Seguila con lo Juventus Club Lizzano Bianconera. Vieni a vedere con noi a Torino Juventus Siviglia. Champions League, prima giornata, fase a Girole. Viaggio di andata e ritorno più biglietto stadio. Per informazioni Juventus Club Lizzano Bianconera, piazza Matteotti 22, Lizzano. Per contatti telefonici Antonio 348 80 88 803, Cristian 349 68 000 66, Giuseppe 347 04 17 623. E sempre Forza Juve, fino alla fine. Forza Juve, fino alla fine.